Dopo gli scavi del 1938, l'ingegner Gatti aveva proposto una ricostruzione del mausuleo ritenuta valida fino all'inizio degli anni 2000. Successivamente al concorso per la sistemazione della piazza, Paola Virgili ha eseguito scavi esterni e ricognizioni interne che hanno fornito nuovi dati sulla base dei quali è stato possibile definire una nuova ipotesi ricostruttiva del mausuleo e dei suoi rapporti con il Pantheon. Richmond, Gatti e von Esberg avevano ipotizzato ricostruzioni basate essenzialmente sull'ipotesi di una tomba a tumulo di origine etrusca. Questa nuova ricostruzione muove dalla ricerca di attribuire un ruolo alle possenti strutture ancora oggi visibili, come già aveva tentato di fare Baldassarre Peluzzi nei suoi schizzi. L'ispirazione è tratta da un piccolo monumento, il trofeo di Augusto o delle Alpi o della Turbì, un dado su cui poggia un piccolo tempio che sorregge la statua di Augusto che domina l'intorno, dunque non uno spazio ipogeo ma un trionfo del grande Augusto. L'ipotesi è basata su considerazioni scientifiche verificate sul luogo e con l'ausilio di indagini cognitive. La prima è quella di attribuire i blocchi di trabbiazione esposti nel mausuleo al coronamento esterno. Si definisce così un ordine dorico che misura 580 centimetri e che si ripete 48 volte con uno sviluppo circolare di 279 metri ed un diametro di 300 piedi. È stato inoltre rilevato che il muro esterno era composto da due blocchi di travertino affiancati e da ortostati. La loro misura esterna coincide con quella della trabbiazione. Questa possente costruzione, che contiene cementizio dello spessore di circa 5 metri, sopportava lo scarico delle concamerazioni circolari, le quali a loro volta sostenevano il monumento, costituendone il basamento. Il terzo punto scaturisce dalla misurazione dei concili travertino giacenti all'interno del monumento, da cui si è rilevata l'appartenenza a due gallerie circolari di raggio diverso. Paola Virgili ha riportato alla luce il basamento e il crollo del cosiddetto secondo muro, costituito da due blocchi affiancati di travertino, ipotizzato ma non indagato da Colini. La certezza dell'esistenza dei tre corridoi e quella del grande pilastro dietro il muro di fronte al Dromos hanno permesso di definire con certezza che l'ingresso alla cella centrale avveniva dal lato nord e non da quello sud. Le misurazioni, i resti murari nella cella e le affermazioni di Francesco Piranesi a proposito della scala interna hanno permesso di ricostruire in modo preciso la scala che conduceva alla sommità del monumento. Il monumento si ridefinisce quindi come una sorta di trionfo e non una sepoltura ipogea, una sorta di colonna coclite antelittera. Un dettaglio che merita attenzione è il protiro, che a scala ridotta alle medesime proporzioni di quello del Pantheon, con la volta e le nicchie laterali come si vede dal fotopiano e dai disegni.